Sabato 9 e domenica 10 novembre si terranno presso il Palacus d'Albarro ben tre eventi diversi di scherma. Fermo restando che sono tutti organizzati dalla Cesare Pompiglio, cos'è che li differenzia? Il Memorial Ezio Zanubini, giunto alla terza edizione, è di spada femminile e maschile categorie allievi cadetti e giovani, mentre la Coppa Pompiglio giunta alla 57esima edizione e la 31esima edizione del trofeo Carlo Basile sono tornei di spada internazionali maschile e femminile a squadre aperti e open, cioè dai cadetti senza limite. Due degli eventi da lei citati ormai possono essere definiti storici verso il numero delle edizioni. Com'è stato possibile raggiungere tale longevità? Tale longevità è stato possibile grazie allo sforzo, al sacrificio di tutta la società, dal Consiglio ai volontari a tutti quanti e anche alle istituzioni che ci hanno dato la mano. La società Pompiglio è una società storica, gloriosa per la nostra città, conosciuta a livello nazionale e a livello internazionale che ha da sempre organizzato un evento di qualità con tantissimi atleti e tantissime squadre. Infatti sabato e domenica ci dovrebbero essere oltre 40 squadre maschili e vuol dire tanti atleti provenienti da tutti i corpi militari perché poi la scherma ha regalato a livello internazionale un mucchio di medaglie d'oro importanti per l'Italia. Quindi un ringraziamento va a tutta la società, ai dirigenti, a coloro che fanno veramente di questo evento un evento importante a livello nazionale e internazionale.